Ciao ragazzi, è stato un nuovo video Oggi ritrovo finalmente non in un game ma oggi andremo a pescare un po' Questa è la mia fanna e questo è il laghettino in cui andiamo a pescare carino e niente, proviamo La raga, primo lancio lo vediamo un po' Allora, qua io ho già pescato qualcosina, si pescano carpi o se no cavi e danini Oh raga, ho preso Uh, carpa Carpa Una carpina Carpina, carpona Una carpettina da mezzo chilo Guarda che bellina Cheese Ok Anche sta qua a mezzo chilo, magari la vino non rende ma è pesante Poi con la mia canna della deca Non è molto facile Adesso provo con un altro Comunque tra un po' dovrebbe raggiungermi pure un mio amico Ciao Manu Eh? Sei staccato? Sì, sei staccato Eh, sto filmando Ho già preso una carpa e un cavedano Sì, no? Sì Raga, adesso preparatevi al meglio Perché da quando è arrivato il mio amico che si va a mano Vi ricordo che il suo canale rimane sempre in descrizione È successo di tutto Ci siamo divertiti tantissimo Preparatevi per le risate perché veramente ce ne saranno tante Ok, raga Oh Raga Ho preso Oh No, abbiamo Oh No No Ho preso Oh Oddio, un cavedano, ma che bello Eh Va bene Oh 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 Merda Dai Zemi Zemi per favore Zemi Zemi No No Tremi Fai il serio Tra Beh, puoi dire di aver più sbagliato Non c'è il culo Ha paura Un sugo ha venuto con la sua canna per pelle Prima di tornare a casa è la Madonna Lui ha ingrovigliato la canna Comunque anche le giatte E intanto mi faccio una penna Qua c'è uno con lo skate E ha molta paura Boom Boom, belle raga Ciao